Presentiamo l'artista Daniela Chiazzolla Daniela Chiazzolla Biografia Nata a Manchi, si diploma presso il liceo artistico ed affina le sue capacità tecniche frequentando dei corsi individuali presso bostese di vari pittori imparando così l'arte di fare arte Ha partecipato a varie mostre biennali in Italia e all'estero La tecnica delle sue creazioni varia dall'olio al pastello fino a diventare scultura ma primo ed immutabile tra tutti gli amori è quello per la grafite un materiale semplice ma versatile, elegante e raffinato che l'artista utilizza soprattutto per la sua passione per il ritratto e la figura umana Filosofia artistica La filosofia dei suoi dipinti si nutre della propria crescita personale Uno scoprirsi continuamente, vedersi ed amarsi quale creatura amata e voluta da un artista più grande e perfetto L'arte infatti, vista come pura fonte di bellezza, è l'ammirazione del creato che noi vediamo Producendo arte, l'artista diventa così co-creatore dando vita ad opere che resteranno immutabili nel tempo Il senso dell'io, dunque, si allaccia al cammino spirituale dell'artista trasformandosi in ispirazione, sensazione ed infine in un'opera Diverse sono le esposizioni in tutta Italia Diverse sono le esposizioni in tutta Italia